Omoda e Jay Kuo arrivano in Italia con uno slogan, in Europe for Europe, che più che un abile claim pubblicitario sembra un manifesto politico, una dichiarazione di intenti per diventare parte produttiva anche nel nostro territorio. D'altronde il periodo elettorale è tutt'altro che archiviato e nel vecchio continente c'è tanto ancora da fare e da coordinare per il futuro, compreso il settore automotive e di certo non basta qualche motto fine a se stesso. Siamo in Europa per rimanere in Europa, quindi non si tratta di un brand mordi e fuggi che vuole semplicemente commercializzare e guardare solo al profitto. C'è proprio una cultura aziendale per cui c'è la volontà di rimanere in pianta stabile sul territorio. L'intenzione è quella di creare sempre più sinergie reali, locali, con aziende del territorio, con realtà europee. Abbiamo un'area in D-Center a Francoforte dove si perfezionano tecnologicamente i prodotti e si definisce il design delle nostre auto e poi chi lo sa è tutto una grande macchina in divenire. Questo è il punto di partenza. I brand Omoda e Jay Kuo per ora da noi dicono poco, a parte gli addetti ai lavori li conoscono in pochi, ma se ricordiamo che fanno parte del gruppo Ceri, uno dei più importanti player cinesi a livello mondiale, allora la notorietà sale di qualche gradino. L'obiettivo è arrivare nel vecchio continente per rimanere, creare sinergie e un circolo virtuoso di relazioni che sappiano valorizzare la catena del business automotive. La strategia di espansione del gruppo Ceri prosegue nel vecchio continente creando sinergie locali per diventare una vera azienda europea. In futuro la produzione, la ricerca e la catena di fornitura saranno locali, mettendo sempre al centro il cliente e garantendo capacità di reazioni rapide. La filosofia del gruppo Ceri è precisa, creare un rapporto win-win con tutte le parti interessate, dalla governance europea a fornitori, concessionari, clienti, istituzioni finanziarie e tutti i partner dell'ecosistema, per raggiungere un successo comune e condiviso. In questo piano di progressiva europeizzazione di Ceri, l'Italia gioca un ruolo strategico. L'ingresso ufficiale sul mercato italiano fa parte della strategia espansionistica del gruppo, con due prodotti che sembrano fatti apposta per il cliente tipo europeo. I SUV, o Moda 5 e Gecko 7 sono i primi modelli di una lunga lista piuttosto variegata, che da qui a poco invaderà le nostre strade. Come? Ricetta facile, design curato e ricercato, equipaggiamento completo a bordo e prezzi concorrenziali, più tendenti verso il basso che verso l'alto, in netto contrasto con i soliti marchi tradizionali e quindi molto convenienti in relazione alla formula qualità-prezzo. Il mercato si apre con la campagna di preordine di Moda 5 con motorizzazione a benzina con prezzi a partire da 27.900 euro. Ovviamente è completa di tutto e con alle spalle una rete di vendita e assistenza italiana che conta già oltre 40 punti vendita. Per Gecko 7 bisognerà attendere settembre, ma è dietro l'angolo. Omoda 5 si presenta per ora con una motorizzazione 1.6 turbo-benzina, ma presto sarà affiancata da una versione full electric. A bordo ci accoglie un doppio schermo da oltre 10 pollici, con immagini panoramiche a 360 gradi, con sistema audio Sony ad otto altoparlanti per avere un effetto sonoro da home theater, seduti comodamente sui nostri sedili sportivi. Tre modalità di guida disponibili che si adattano alle diverse condizioni di guida, dagli ambienti urbani ai terreni accidentati. Gecko 7 ripercorre la medesima strada. Prima arriverà la motorizzazione benzina, poi a breve con una variante plug-in hybrid. L'off-road in abito elegante è il suo biglietto da visita, si distingue dalla massa, ma ama farsi sporcare. Omoda 5, invece, è l'anticonformismo dell'auto, più fashion e meno off-road nudo e crudo come J7. Ama più l'asfalto cittadino e meno lo sterrato. In entrambi i casi, comunque, il fattore X risiede nel prezzo ultraconcorrenziale. Su un segmento C-SUV che veleggia ben oltre i 35 mila euro per i concorrenti diretti e senza il bagaglio tecnologico a bordo che offrono sia Omoda 5 che Gecko 7.